Un documento condiviso e sottoscritto da Giuseppe Ventura, Torino Biundo, Cristiano Malluzzo, Guido Siracusa, Sandra Bennici, Romina Morselli, Salvatore Gallo, Enzo Cirignotta, Sara Bonura e da Maria Pingo, tutti consiglieri comunali dell'area di centrosinistra perché la città vive un disagio che necessita un forte patto di responsabilità tra i soggetti politici in campo e affinché si possa al meglio tutti insieme affrontare le tante criticità del territorio. I consiglieri firmatari del documento avvertono sempre più la necessità di formare una forte alleanza per il bene di Gela. Occorre, si legge, una sana e utile opposizione a questa amministrazione comunale ritenuta incapace di interpretare e risolvere i problemi della città, ma allo stesso tempo si avverte la necessità di costruire una valida alternativa al populismo che ha prodotto soltanto danni. Questa amministrazione, sottolineo ancora, oltre a non risolvere nessuno dei problemi che attanagliano la nostra comunità, allo stesso tempo ha allontanato i cittadini dal palazzo, dalla politica, dalla cosa pubblica. Tutti, cittadini, comitati di quartiere, associazioni, consiglieri comunali, lamentano uno scarso dialogo con la giunta che si è chiusa a riccio, estraneandosi dalla realtà. Siamo convinti, ribadiscono, che i partiti politici e le appartenenze di ciascuno possano essere di ostacolo all'unità, indispensabile per la crescita di un territorio, in quanto da qualche tempo hanno abdicato dal loro ruolo di guida, a meno che accettino la sfida di aprirsi alla comunità, ai movimenti, mettendosi al passo con la nuova realtà. I consiglieri che hanno sottoscritto il documento evidenziano che ogni giorno sono destinatari delle lamentele dei gelesi per i numerosi disservizi. Riteniamo urgente ed imprescindibile, dicono, allearsi per il bene della città, lasciando da parte gli egoismi personali ed aprirci alla cosiddetta società civile, alle associazioni, ai comitati e a tutti gli uomini e donne di buona volontà che hanno a cuore il bene di Gela. Riteniamo indispensabile, aggiungono, chiamare la città al completo, tutte le categorie professionali, i rappresentanti di interessi economici e sociali, ad un confronto pubblico dove poter raccogliere idee e proposte per la città che vogliamo. Ci impegneremo, fin da ora, a mettere le basi a questo progetto di unità per costruire una valida alternativa di governo di questa città, convinti, come siamo, che soltanto con l'aiuto di tutti, cittadini compresi, sarà possibile risollevare le sorti di un territorio oramai dilaniato. Una sfida certamente difficile e tortuosa, ma proprio per questo chiudono entusiasmante.